L'uso dei mezzi condivisi per gli spostamenti urbani dai monopattini alle automobili è in crescita del 60% rispetto al 2021 e aumentano anche i fatturati del settore, più 52%, arrivando a 130 milioni di euro. Questi in sintesi i dati del rapporto sulla sharing mobility presentati oggi a Roma. Le auto calano nei noleggi brevi ma crescono su quelli di durata medio-lunga, puntando a diventare alternative all'auto privata, mentre bici, motorini e monopattini consolidano la loro presenza con una flotta al 100% elettrica e quindi se l'energia viene da fonti rinnovabili si riduce anche l'inquinamento. I monopattini a volte sono criticati per l'uso improprio e gli incidenti che, secondo l'Istat, nel 2020 in Italia sono stati oltre 2.100 con quasi 2.000 feriti e 9 morti. Un bilancio tragico che ci ricorda che la prudenza in strada è fondamentale. Nel 2021 l'Istat ha contato 2.875 morti e più di 204.000 feriti e oltre il 70% degli incidenti avviene in città. In Italia ci sono 663 auto ogni 1.000 abitanti, neonati compresi, e, secondo una ricerca di nomisma, nelle città metropolitane gli automobilisti in un anno passano più di 10 giorni lavorativi in coda, ma il record si tocca a Roma, con 20 giornate l'anno bloccati in auto.